Ciao a tutti, io sono Ambu e come potete vedere finalmente anche io dispongo di una telecamera, devo ringraziare Lego per avermela venduta, ho comprato anche un cavalletto, chi è venuto al Games Week probabilmente ogni tanto mi ha visto in giro una telecamerina piccola però fa il suo lavoro, finalmente se farò dei vlog o dei video in cui si vede il mio volto non sarà tutto sgranato o una cosa schifosa e questo mi servirà anche per uno dei due grandi progetti che avevo intenzione di fare appena sarei riuscito a rimettermi bene in sesto. Che dire, quel periodo sembra proprio che sia arrivato e lo spero sinceramente anche perché mi dà fastidio continuare magari a mettere un video scomparire, mettere un video scomparire. Non è il migliore dei periodi, alcuni di voi che parlano con me a volte su Facebook, che in questo periodo lo lascio spesso logato, sanno che comunque è un po' di casini eccetera, ma sono felice di vedere che ci tenete, che comunque siete voi preoccupati che sono scomparso o robe simili. No, non sono scomparso, sono sempre qui e anzi, ora si spera con questo video, che non voglio farlo diventare un video informazioni o balle e varie, voglio proprio dirvi un po' delle mie cose, si spera che ora riparta tutto col verso giusto, col piede giusto diciamo, perché sapete io ho sempre tenuto molto al canale, se no diciamo non saremmo qui con questi iscritti, con voi che mi seguite, che... oddio, ho appena mangiato mi continuo a venire da digerire e non riesco a parlare, lol. E... cosa dire? Innanzitutto, anche se un po' in ritardo, ringrazio tutti quelli che sono venuti al Games Week, con cui ho fatto delle foto, degli autografi, spero non siate troppo scandalizzati dai miei autografi, chi li ha ricevuti, perché davvero mi faceva pena quando vedevo che mi firmavo da qualche parte scrivendo 4M8U, che non sono in grado io di fare gli autografi, guardate, vi posterò uno screen magari da qualche parte, o se qualcuno di voi ha ricevuto un mio autografo, lo scannerizzi, lo metto sulla pagina di Facebook, perché è qualcosa di assurdo i miei autografi, fanno schifo, fanno schifo, c'è poco da fare, non sono capace. Le foto, non ero bellissimo nemmeno in quelle ovviamente, però diciamo che era meglio rispetto all'autografo, almeno per quanto penso io. sul secondo canale ho appena iniziato da due giorni una serie, che sto provando a mettere un episodio al giorno, su Prototype, in cui gioco appunto la campagna di Prototype 2, mettendo anche la webcam, perché ora che c'è la webcam è la parte dove si vede il mio volto, le relazioni, eccetera. Perché dato che ora ho questa telecamera, il cavalletto e tutto, diciamo è anche un... non uno stimolo in più, diciamo, cioè è una novità che mi è sempre piaciuta molto, ma che non ho mai potuto troppo realizzare, nel senso il fatto di essere molto restio nel fare i vlog, non farli spesso simili, era anche dato dal fatto che per la qualità con cui potevo metterli, non valeva la pena di farli. Ora invece, con questa telecamera potete vedere anche tutta la mia barba che cresce e incolta tranquillamente, e è una cosa totalmente diversa, se andate a vedere i miei precedenti vlog. La qualità audio forse non è ancora delle migliori, perché ora non ho sul microfono, sto registrando con l'audio della telecamera, sto urlando un po' per fargli recepire tutto alla telecamera, vedete il riflesso dello schermo qui, vedete tutto bianco, uuuuh! Che dire, in questi giorni, credo forse già da domani, non sono sicuro se domani, sicuramente eventualmente da sabato, voglio ripartire anche seriamente con il canale, so che è una cosa che in sto periodo andavo e venivo, ogni tanto c'era il video, ogni tanto no, sia perché c'erano impegni, come è stato ad esempio il Games Week, che chi di voi è stato lì sa quanto abbiamo lavorato, eccetera, sia perché ho, diciamo, le mie cose in questo periodo, mettiamola così. Spero davvero questa volta di non dover più fare video simili, perché mi dà proprio fastidio, sono sicuro che anche voi non siate felici di vedere un video simile, nel senso, voi volete vedere il gameplay, la cosa divertente. E, appunto, sto iniziando a preparare un po' di video per avere qualcosa di fisso da mettere, da farvi vedere. Sono felice che, ad esempio, Prototype 2, sul secondo canale, stia andando... non è ovviamente seguito come se fosse sul primo canale, fa anche le sue... oddio, una moto che passa... farà le sue 500 visual, 600 visual, 100 mi piace, però è bello comunque perché il motivo proprio per cui io ho iniziato a fare video è perché mi diverto a farli fondamentalmente. Infatti, se un periodo ho qualche problema, ho qualcosa, sono giù per i cavoli miei, non lo so, tutti i problemi che possono esserci, non mi viene proprio spontaneo realizzare dei video. Cioè, mi escono proprio delle cose brutte che le riguarda e dico, ma mi farei schifo a caricare una cosa simile sul canale. Ora, sembra che mi sia tornato un po' la forma, la... diciamo, la... la forza... boh, non so come definirlo. Eh, diciamo che sembra che sia tornato l'ambu Uber Esd... così avete visto pure un Esd fatto sulla webcam. Oddio, continuo a chiamarla webcam ma è una telecamera, mi devo prendere a schiaffi, non lo so. Eh... questo video sta diventando lunghissimo e non voglio farlo durare mezz'ora perché ogni volta dico, no, il video durerà 5 minuti e poi ne dura 20 e diventa una palla assurda. Vi dico solo di seguire il canale perché già da domani, o massimo sabato-domenica, non lo so, spero da domani comunque, ripartiranno i video in modo serio. Eh, fatemi sapere se l'idea di mettere la webcam, c'è morco la webcam, l'idea di mettere la telecamera che vede il mio volto vi piacerebbe anche su Minecraft, quindi eventualmente se volete farvi un'idea, a parte che lo vedete da 100.000 YouTuber, sicuramente, quindi non avete bisogno di farvi un'idea. Però, se volete guardare un attimo, sul secondo canale vedete gli episodi di Prototype 2, ce ne sono già due, Prototype 2, due episodi, assed, che potete visionare per guardare un attimo come viene con la telecamera. Detto questo è tutto, io vi invito come sempre a... non tanto a lasciare un mi piace perché questo video non è buon video da lasciare un mi piace, certo se me lo lasciate perché magari siete felici che torno, che mi avete visto qualche... boh, l'esperienza del Games Week, non lo so, ci possono essere 100.000 motivi per cui me lo lasciate un mi piace. Però vi invito principalmente a seguire il canale in questi giorni perché, appunto, arriveranno video, spero ne arriveranno tanti e spero che vi piaceranno. Inoltre, appunto, con la webcam ci saranno presto queste novità che... oddio, ho ancora webcam, non l'ho chiamata, che palle... ci saranno queste novità che... di cui vi avevo accennato già tempo fa in un video con Alberto, cose che volevo realizzare da tanto, tanto tempo, quasi un anno, ma ho sempre pensato che non avrei mai potuto farle senza una telecamera. Ora, invece, grazie comunque anche a Lego che mi ha venduto questa telecamera, che è comunque una bella telecamera, a me non serve una roba strafiga da 10.000 euro, questa mi basta e avanza, è bellissima, e questo figo cavalletto che fa il suo buon lavoro potrò anche realizzare queste cose. Quindi, niente, io vi invito a seguire il canale. Se volete intanto vedere dei miei videogameplay, andare sul secondo canale, di cui trovate comunque i link in descrizione o comunque nei miei canali consigliati, AmbuTV lo potete trovare, troverete due nuovi già episodi caricati di Prototype 2, quindi eventualmente avete una mezz'oretta di video da guardare lì, nell'attesa che escano appunto i video di Minecraft. Tanto so che la maggior parte di voi sono interessati a guardarmi per i video di Minecraft. E infatti quel canale nasce proprio perché io gioco a tantissimi giochi e a molti di voi ha sempre fatto piacere, ah ma fammi un video su Lola, ah ma fammi un video su questo, ah ma fammi un video su quell'altro. Dato che comunque io gioco un miliardo di cose, io proprio non mi blocco su un gioco perché dico, ah questo mi piace, quello mi fa schifo. No, io gioco tutto a prescindere dal gioco indie di Dig al gioco stra-pro dove suco, quando tipo giocavo a Counter-Strike contro Frost che mi spaccava il culo in due praticamente. E su quel canale quindi potrete trovare tutte le cose riguardo ad altri giochi, eventualmente chiedermi, ah fammi, non lo so, un video in cui giochi a Black Ops 2, ah fammi un video in cui giochi a questo, ah fammi un video in cui giochi a quell'altro. Di giochi ne ho tanti, quindi non c'è nessun problema, basta dirlo. Detto questo è tutto, quindi seguite il canale mi raccomando, controllate il canale secondario se volete vedere appunto qualcosa mentre aspettate e ci vediamo al prossimo video ragazzi, grazie a tutti della visione, ciao!